Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, buon inizio settimana, andiamo a fare il punto sulla questione ciclica sui mercati delle crypto, andiamo a vedere sempre Bitcoin per avere un punto di vista di breve, oggi dopo il grande video che ho fatto venerdì sull'analisi ciclica di lunghissimo periodo ragazzi che è andato benissimo, quindi io intanto volevo ringraziare tutti quanti per gli apprezzamenti che fate sempre per questi video di analisi veramente complessi, ma comunque a me fa molto piacere appunto condividere con voi quella che è la mia opinione, la mia idea generale, oggi però ho da mostrarvi quello che è la struttura di Bitcoin dal punto di vista di analisi del ciclo mensile, perché nella scorsa settimana, sempre lunedì, abbiamo parlato della questione legata al fatto che il ciclo mensile potrebbe essere iniziato il 19, però vi avevo anche detto che c'era una questione un pochettino spinosa sul fatto che fosse stato troppo preciso oggettivamente insomma a concludersi il famoso 19 e che probabilmente questa struttura ciclica poteva essere anche di natura ternaria, allora oggi andiamo a rivedere questo punto perché andiamo a controllare un'ipotesi che si potrebbe verificare proprio nei primi dieci giorni di settembre. Tra le altre cose sto aggiornando la nostra analisi e la strategia di analisi che in Academy stiamo seguendo da tre mesi, che l'ho definita monthly strategy, con la quale abbiamo portato a caso un altro 36% senza leva ragazzi su questo mese, molto buono, stiamo facendo grandissimi risultati, ho pubblicato i risultati sul canale Telegram ragazzi, quindi il link in descrizione al canale Telegram è gratuito, iscrivetevi quando volete sul mio canale Telegram così stiamo iniziando anche a condividere altre tipologie di analisi e contenuti, sicuramente nelle prossime settimane cambierà un po' anche quel canale perché ci sarà del lavoro dedicato proprio alla condivisione di contenuti sul canale Telegram. Ho fatto vedere insomma un po' tutto quello che era l'escurso in questa strategia, ho già calcolato i livelli di tip, ho già calcolato tutto, devo solo fare il video per aggiornare i ragazzi dell'Academy, ma iniziamo anche qui a dare un po' di spunti riflessivi proprio in base a questa questione. Allora, sta per iniziare un nuovo mese, il terzo mese conclusivo della Q3 per quanto riguarda i mercati cripto, un Q3 che è anomalo rispetto agli altri perché il Q3 di solito non è molto positivo, in questo caso è stato invece positivo, avrà la forza di continuare a spingere addirittura anche settembre, è un po' particolare questo mese, è un po' particolare perché ci sono una serie di questioni da andare a vedere. Quindi ragazzi, subito ci spostiamo sui grafici, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto lasciatemi i grandi pollici, ma se qualcuno ha qualche idea che gli frulla in testa, ci sono molti ciclisti tra virgolette tra di voi che sono esperti in analisi, condividete sui miei video, nei miei commenti, non nei miei, i vostri commenti, tutto quello che vi gira in testa e così andiamo a vedere un po' anche quello che ci avete insomma in testa che voi, che state seguendo anche voi. Allora ragazzi, questo è il grafico di Bitcoin in questione. Allora, andiamo subito a fare il punto sull'analisi ciclica e volevo poi spostarvi a farvi vedere anche questa, le statistiche solite di SKU dove andiamo ad analizzare il Q3 e poi anche un grafico di natura settimanale che dovremmo andare a verificare. Allora, se in effetti abbiamo detto ragazzi la scorsa settimana che poteva essere iniziato un ciclo mensile lo scorso 19 di agosto, poi però vi avevo accennato sulla questione legata al fatto che fosse un po' troppo preciso e che solitamente questo tipo di caratteristiche non sono molto positive diciamo per i mercati, i mercati hanno bisogno anche di muoversi un po' per dettare quelle che sono degli standard poi di riprese. Insomma, questa fase di bassista mi sembrava un po' troppo tenue. Ragazzi, allora, se uniamo la due struttura, quindi quando andiamo a vedere se riusciamo ad avere una struttura ciclica di natura ternaria, dovremmo andare a fare una cosa di questo tipo. Ora, ragazzi, una cosa di questo tipo configurerebbe un ciclo di natura ternaria, quindi due mensili uniti, complicherebbe un po' la questione. Allora, se fosse effettivamente iniziata una fase di questo tipo, da qui in poi potremmo avere avuto già il massimo di questa struttura. Io non la vedo del tutto così, perché questo livello è sicuramente un livello estremamente importante per quanto riguarda Bitcoin. Ve lo faccio vedere per esempio sul grafico settimanale che si vede meglio. Perché, ragazzi? Perché questo livello coincide alla perfezione con quello che è il rientro in un'area che è questa qui, quindi l'area vicino ai massimi storici. Ragazzi, non so cosa ho combinato. Eccolo qui. Perfetto. Allora, questa zona qui. Questa zona, ragazzi, è molto importante per il mercato, perché il rientro qui configura non più una possibilità di rimbalzo del gatto morto, perché viene annullata dal rientro in questa area e configurerebbe poi soltanto il rischio doppio massimo, ma non un'altra figura di inversione. Quindi questa al momento resta ancora nella pericolosissima figura di inversione ABC. Mentre un rientro all'interno di questa fascia di prezzi non configura più quel tipo di rischio. Quindi poi avremmo magari il famoso doppio massimo, però, ragazzi, sicuramente molto meno preoccupante rispetto a quella attuale che invece si configura appunto come una struttura ABC. Perciò questo livello 40, 48, 50, questa zona qui è molto rilevante anche da un punto di vista di analisi tecnica. È normale che il mercato si sia andato a fermare su questo tipo di livello, perché semplicemente, ragazzi, è un livello difficile, un livello di riflessione, però è anche molto bello vedere che questa settimana il mercato non sta sprofondando, sta semplicemente facendo una correzione. Quindi è possibile che i prossimi giorni magari il mercato vada a raffigurare questa struttura dell'inizio del mese di settembre con una leggera debolezza in decisione in barra di congestione. Cioè che non vada a fare praticamente granché, ragazzi, ok? E questo tutto sommato potrebbe essere anche positivo. Se lo vediamo da un punto di vista di struttura mensile, potremmo avere in pratica una perdita di tempo questi giorni. Poi magari una struttura leggermente che va a cercare il suo minimo per poi riprendere una nuova fase dalla prima decade 6 dal 6-7 di settembre in poi, ok ragazzi? Quindi in questa finestra temporale. In realtà questa è una finestra temporale che andrebbe anche fino al 15-19 di settembre, però mi sembra un po' eccessivo. Quindi dovremmo un po' andare poi a controllare questa cosa. Al momento, da un punto di vista operativo, andare ad operare su mercati del genere diventa un po' più complesso perché come sempre dopo la prima partenza dei cicli annuali, per esempio come quello che abbiamo visto che ha fatto la bomba, diventa più difficile andare a costruire delle operatività perché? Perché non è detto che i prossimi mesi siano esplosivi, ragazzi, ok? Ci potrebbero essere anche delle... potrebbe essere settembre un mese di riflessione del mercato e quindi lì si ragiona con tecniche di trading per fare profitto oppure gli holders stanno fermi e aspettano il mercato. Insomma ragazzi, ok? Nelle fasi di congestione chiaramente gli holders non portano a casa rendimenti ma i traders sì, se sono bravi chiaramente, ma nelle fasi di bull poi gli holders si rifanno quindi va benissimo anche in una questione del genere. Anche perché le altcoin stanno dando i numeri di nuovo, soprattutto sull'anno ragazzi, anzi in settimana faremo anche dei nuovi video per quanto riguarda proprio questo tipo di... insomma per quanto riguarda le altcoin, intanto vi ho fatto passare quello che è il mio canale Instagram ragazzi, iscrivetevi anche lì chiaramente. Va bene, allora andando avanti, per quanto riguarda questa struttura, io quello che vedo in questa fase è laterale, quindi congestione è una tendenza nei primi giorni di settembre per il mercato ad essere leggermente ribassista se non regge questo livello ragazzi, ok? Che sono più o meno proprio i 47. Allora non mi aspetto in sostanza né grandi pump né grandi down. Ovviamente, anche qui ragazzi, se il mercato dovesse iniziare a dare segnali di forza importanti, per esempio andando a superare il livello da 50.751, beh qua un tentativo long si potrebbe anche fare. Fermo restando che io in questo caso agirei sicuramente con la parte dei miei trading system meno con la parte discrezionale. Per la parte discrezionale io mi aspetto, diciamo, questa settimana che il mercato vada a riflettere leggermente, se non addirittura a tentare un minimino, diciamo, un po' basso intorno ad aria 46-45k. Stesta questione la possiamo ritrovare proprio andando a guardare anche il grafico di natura settimanale, perché questo grafico di settimanale ha superato la bellissima media mobile del semestrale, quindi quella che vi dicevo, costruita con media mobile semplice a 26 periodi. Questa media mobile, come vi spiegavo anche nel precedente video di lungo periodo, potrebbe essere una zona dove il mercato si vada a se stare prima di riprendere un trend, perché ragazzi, in pratica, cosa ci indica questa media mobile? Vedete che è piatta. Essendo piatta, in questa fase ci sta dando un'indicazione molto interessante, cioè ci dice che il mercato negli ultimi sei mesi è sostanzialmente sul suo prezzo di equilibrio, quindi 50-46, insomma. Ok ragazzi, queste fasce di prezzo per Bitcoin negli ultimi sei mesi sono accettabili. Questa media mobile, in questo momento, è una media mobile che indica un livello di price intorno a 46k, questo significa che 46k per il mercato rappresenta un prezzo di equilibrio degli ultimi sei mesi. Ecco perché il mercato potrebbe fermarsi intorno a questi valori, perché sostanzialmente dice va benissimo così per un po' di tempo e poi magari più in là andare a prendere un trend, magari nel mese di ottobre per andare a spingere nel Q4 poi dell'anno, andare a cercare appunto il rientro in questa zona con un nuovo trend. Se ovviamente dobbiamo andare a rompere questi massimi, secondo me questa situazione di attesa durerà non più di una quindicina di giorni, quindi a settembre, quindi i primi giorni di settembre. Dopodiché il mercato tenterà quindi di riprendere la strada. Questo se andiamo a fare i grandi numeri verso la fine dell'anno. Quindi potrebbe essere anche interessante andare a guardare questo atteggiamento perché se il mercato aggredisce molto bene il prezzo nei prossimi... dopo le prime settimane di settembre potrebbe essere un'indicazione anche che stiamo per andare a fare numeri serie. E quindi a quel punto ragazzi perché no ci... diciamo stiamo così insomma con le mani in questo modo. Va bene, allora anche in questa zona però vedete una fase eventuale di riposo a livello settimanale. Settimana iniziata rossa ma iniziata praticamente oggi, quindi questa chiude tra qualche giorno. Potrebbe in effetti essere una candelina rossa che si appoggia qua in questa fascia di prezzo intorno a 45-46. Quindi in questa zona qui si può appoggiare riposa. Magari tenta un ritorno sulla sua media che come vedete è intorno a 45-47. E poi nella prossima settimana magari tenta una verdina piccolina e si riporta a 48. Insomma fa una semplice oscillazione perdendo un po' di tempo e assorbendo anche gli eccessi di questo tipo di trend che abbiamo visto che è stato ampiamente proficuo. Solo il superamento di questo livello di massimo come vi ho detto prima configurerebbe probabilmente una nuova accelerazione rialzista che però in questa fase sarebbe anche estremamente soggetto al famoso fake breakout quindi al pattern di fake che ragazzi è sempre lì in anguato per quanto riguarda anche queste situazioni e potrebbe essere un po' difficile da gestire quindi non ha carattere manipolatorio diciamo così. Andiamo a concludere il video guardando quelli che sono gli escursus delle statistiche legate ai trimestri. Quindi se andiamo a guardare appunto questa struttura vediamo che il trimestre in questione che è questo qui ragazzi 36,2 agli attuali livelli è intanto uno dei migliori trimestri come Q3 del mercato delle criptovalute dal 2014 superato solo e esclusivamente dal famosissimo 2017 con la Hyper Pure Run che ha fatto solo trimestri positivi con questo 80%. Cioè questo livello di 36,2 è il più alto dopo il 2017. Ora se settembre va a gonfiare ulteriormente questo rialzo cioè ragazzi mi spiego se va a salire ulteriormente per esempio di un 20% nel mese di settembre il mercato configura un 56% in Q3 che è appunto un eccesso rispetto ai precedenti, alle precedenti statistiche. Ecco perché mi sento di dire che magari potrebbe un po' riposare in questa fase proprio per non dare troppo fiato a questa zona e magari puoi spingere nel Q4 che è solitamente invece un trimestre molto positivo per i mercati. Ovviamente questo tipo di logiche lasciano il tempo che trovano ragazzi perché? Perché comunque sono statistiche con pochissimi dati però ci danno comunque un'idea generale di quello che è del punto dove siamo diciamo della strada che abbiamo percorso già nel terzo trimestre e il terzo trimestre ha prodotto un buon risultato perché ha quasi assorbito interamente addirittura la perdita del Q2. manca pochissimi punti percentuali quindi quattro punti in sostanza ragazzi quasi niente e non è male perché significa che il mercato si è stazionato appunto un ulteriore conferma del famoso punto di equilibrio intorno ai 46-47k al momento quello segnato dalla media mobile che vi ho mostrato e potrebbe essere anche un modo in cui il mercato ci sta dicendo mi sto riposando sto ricaricando le batterie. se arriverà qualche news positiva per esempio a ottobre quando inizierà magari il Q4 iniziamo la nostra grande galoppata che poi è quella che ci aspettiamo ragazzi proprio per andare a fare il famosissimo massimo. Nel frattempo come dicevo prima le altcoin spingono quindi posizioni da holder sono full long ragazzi è inutile che ci giriamo intorno questo è un video un po' più orientato a chi sta cercando un punto di ingresso e magari vuole decidere come entrare perché no quei livelli 46-45 qualcosa se il mercato ci arriva potrebbe essere un punto di ingresso perché no anche di posizionamento e mentre per il trading di breve vi ho spiegato quello che andrò a fare quindi ragazzi long, full long ovviamente per quanto riguarda l'holding per il trading di breve c'è da posizionarsi ed è quello che farò io ragazzi perché chiuso questo video vado a aggiornare il video sulla nostra operatività settimensile per l'academy e pubblicherò i livelli di buy il primo livello comunque ve l'ho già detto in questo video sarà sicuramente intorno ai 46k circa poi ovviamente noi gestiamo anche il momentum no quindi quando il mercato non arriva o ci arriva e scende aggiorniamo questi livelli mente in tempo reale va bene ragazzi allora per oggi è tutto fatemi sapere invece della vostra idea nella prossima settimana che cosa ci aspetta questa settimana quale sono le vostre idee dei mercati e soprattutto qual è la vostra coin preferita ragazzi le alt coin che numeri ma soprattutto solana che numeri sono contentissimo va bene ciao a tutti al prossimo video